Ciao a tutti Enesini, siamo qui in un nuovo video di spacchettamento uova di Pasqua. In realtà è post Pasqua perché ho approfittato degli sconti che hanno messo nei vari supermercati. Di solito io non li trovo mai, però stavolta sono riuscita a trovarne alcuni che mi interessavano. Ho preso quello delle Winx, questo qua, eccolo qui, a 5,99€. Ho detto no, vabbè, lo devo prendere perché 5,99€ tra cioccolato e figure che è abbastanza grande, secondo me li vale. Insomma vale la pena prenderlo anche se è finita Pasqua e poi il cioccolato Kinder non va mai a male, diciamo la verità. C'era anche quello delle principesse che però non ho preso e poi ce n'erano ancora altri rimasti ma alcuni non li avevano scontati, quindi quelli non scontati non li ho presi. Tipo le Mermaids è rimasto a 9,90€ quindi quello non l'ho preso. Però ecco, volevo provare questo qua delle Winx, ci sono soltanto Flora, Bloom e Stella nella collezione. La mia preferita ovviamente è sempre Flora, però le figure sono fatte davvero bene quindi le volevo provare. Fatemi sapere chi avete trovato voi nelle uova di Pasqua, molti me l'hanno detto nello scorso video. Andatelo a vedere, mi raccomando, ho aperto le uova, nell'ultimo video ho aperto le uova di Myro Academia che erano molto ricercate. So che molti di voi non le hanno trovate e quindi andatelo a vedere, sicuramente vi piacerà. E poi riguardatevi insomma tutti i video di uova di Pasqua che ho aperto in questo periodo. E poi c'è sempre la playlist con tutte le uova di Pasqua che ho aperto dall'inizio fino a adesso, insomma nei vari anni. Detto questo, banda le ciance, andiamo ad aprire l'uovo. Questo è piccolino, è 150 grammi. L'artwork è molto carino, sono quelle nuove, il design nuovo delle Winx che sembrano molto carine. C'è la solita app di Apple I Do. E niente, l'uovo è il classico, la carta è sempre quell'arcobaleno. So che molti hanno trovato sorprese nell'uovo, diciamo, tipo che ne so, nell'uovo delle Winx, i dinosauri, oppure nell'uovo delle principesse Avatar, perché molti hanno scambiato i collarini. Questi qua perché arrivano staccati dalle uova. So che molti hanno trovato questo disagio, quindi penso che abbiano avuto un po' di delusione il giorno di Pasqua. Speriamo che non succeda anche a me, però in ogni caso sono tutte carine le sorprese, quindi va bene. Detto ciò, andiamo a togliere la solita linguetta di plastica, che stavolta sono riuscita a trovare subito, stranamente. Quindi andiamo a scartarlo. Mi mancherà un sacco scartare le uova di Pasqua fino al prossimo anno, devo dire. Io adoro le uova di Pasqua, mi piacciono tantissimo. È una delle mie cose preferite, se possiamo dirlo. E niente, apriamo. Eccolo qua. Allora, eccolo detto, molto piccolo, rispetto a tanti altri che ho aperto. Qua c'è il barattolino. Vediamo. Questo non ha scritte né altro, no, è semplice. Allora, uno, due, uh, e tre. Ok, durissimo. Eccolo qua. Allora, assaggio un pezzetto di cioccolato perché sì. Kinder non si rifiuta mai. Allora, buonissimo il cioccolato. E adesso andiamo ad aprire la capsula. Ditemi nei commenti prima di vedere la fine. Secondo voi chi trova delle tre? Io scommetto Bloom, così. Anche se chiaramente spero in Flora, però secondo me è Bloom. Ditemelo nei commenti. E adesso andiamo ad aprirlo. Oh, è invece a Stella. Ho sbagliato. Beh, comunque, carina. Allora. C'è la sua carta. Eccola qua. L'artwork è molto carino, devo dire. Solito, classico vestito arancione. Questa è per l'app Play Do. E qua c'erano le tre. Eccole qua. Qua c'è lei. E qua ci dice come montarla, ma sembrerebbe abbastanza semplice. Quindi ora andiamo a montare insieme e vediamo com'è. Sono soltanto tre pezzi. Allora, è abbastanza grande, devo dire. Per essere l'uovo piccolino. Allora, come così, credo. Penso. Sì. Allora, eccola qua. Allora, questa è lei. È molto carina, devo dire. Il viso è ben dipinto. Le ali sono glitterate. Carina. Non ha grandissimi dettagli, però insomma è fatta bene. Quindi direi che per 5,99€ ci sta assolutamente come acquisto. Fatemi sapere se anche voi prenderete qualche uovo post Pasqua e approfitterete dei saldi, diciamo. E niente, è carina dai. Anche la base è molto carina, con il simbolo delle wings. Quindi niente, direi soddisfatta. Ah, e ho notato che si alzano anche le braccia. Si spostano le braccia e il busto. Quindi, dai, è anche snudata come figure. Quindi non è affatto male. Mi piace. Bella, bella. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate. E quale delle tre è la vostra preferita o avete trovato o vorreste trovare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su. Iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, restate utilizzati per altre aperture di non solo cuova di Pasqua, ma ovviamente anche di altre cose, altre blind box e blind bag. Ciao, ciao!